Riabilitato al lavoro il dentista che ha cercato e ottenuto visibilità addirittura internazionale. Siamo ormai tristemente abituati a vedere come le gesta di valore vengano talvolta passate sotto traccia, mentre la stupidità fatta persona suscite reazioni forti, che anche se animate da sdegno, risuonano velocemente di bocca in bocca e rimbalzano anche fuori dai confini ben marcati del biellese. Territorio che per queste gesta ora viene ricordato e anche deriso. Dopo l'azione a dir poco scenografica del tentativo del siero anti-covid sul braccio di silicone e dopo aver presenziato anche a trasmissioni nazionali dove pare abbia pagato 18.000 euro per ottenere la pubblicità sperata, ora un dietro front che smorza gli ideali che tanto aveva annunciato. Dopo che si è fatto vaccinare il richiamo compreso, l'odontoiatra Giulio Rosso, diventato famoso per aver cercato di truffare i sanitari del centro vaccinale Biverbanca, è stata cancellata la sospensione. Ha potuto quindi riaprire lo studio. Questo non vuol dire che i suoi guai siano finiti. Dovrà ora affrontare le conseguenze giudiziarie delle sue azioni. Non basterà quindi uno scusate stavo scherzando.